Giuseppe Revisorete Chi di voi ha la tecnologia? Non sto parlando della paura che ha mia madre quando guarda lo smartphone e non comprende bene le notifiche. Parlo proprio di la paura, quella vera, quella che fa battere il cuore, quella che fa sudare freddo state le mani, chi di voi ha paura della tecnologia? qualcuno in fondo bene, pensavo peggio per voi pochi sappiate che la vostra paura è parzialmente infondata questo perché è più la non consapevolezza nell'utilizzare uno strumento tecnologico che è nato per colmare dei vostri desideri tramite l'utilizzo di un computer e di un'app ma facciamo veramente bene a non preoccuparci della tecnologia faccio questa domanda perché in realtà dovete sapere che esistono determinate tecnologie che sono per forza governate da un soggetto remoto che in molti casi non sappiamo nemmeno che esiste e di questo soggetto remoto noi ci stiamo totalmente confinando crediamo, a non sappiamo che esiste e b speriamo che questo soggetto remoto non faccia danni perché vi parlo di questo rischio? ve lo spiego meglio con un esempio che fa capire meglio quello che sto parlando esiste una serie tv americana Mr. Robot, bellissima parla di Elliot un hacker psicopatico che sfrutta le proprie competenze informatiche per combattere il sistema per combattere una determinata multinazionale in una città bellissima come New York cosa succede? che nella prima puntata della seconda stagione Elliot e i seguaci di Elliot fanno una cosa bellissima una parte della prima puntata inizia che c'è questo avvocato di questa multinazionale che esce dalla doccia esce dalla doccia e si accorge che la casa è fredda ci sono 12 gradi corre verso il termostato il termostato è praticamente un tablet questo perché questa abitazione è una cosiddetta smart house cioè quelle case governate da centraline informatiche che governano tutti i processi di vita della casa dalla luce, dal riscaldamento, dalla sala cinesca e quant'altro questa ragazza si avvicina verso il termostato sposta la temperatura su temperature più confortevoli e niente, torna sui 12 gradi riprova a spostare la temperatura sui 12 gradi e niente, torna indietro questo perché senza capire il motivo e a un certo punto mentre insiste, insiste, insiste la casa impazzisce si iniziano ad accendere le luci di intermittenza squillano i telefoni ma dall'altra parte non c'è nessuno musica a tutto volume si accende la tv e addirittura la serranda della sala cinesca del garage si alza e si abbassa come impazzita inizia a suonare l'allarme suona l'allarme e questa persona corre per disinserire l'allarme perché il rumore è troppo forte inserisce il codice il codice non lo prende nella totale disperazione sfuma la scena su lei che si è messa un piumino perché alla fine in casa ci sono 4 gradi e tramite lo smartphone chiama l'assistenza per venire a risolvere il problema ma quelli dell'assistenza tecnica lì rispondono che purtroppo deve aspettare una settimana perché hanno troppe chiamate perché non è un problema che ha soltanto lei e che pertanto è costretta ad abbandonare l'appartamento perché il problema non si può risolvere in questo momento è costretta ad abbandonare l'appartamento perché l'appartamento è letteralmente impazzito e soprattutto non ci sono le temperature idonee per la vita di un umano lì dentro allora questo avvocato cosa fa? chiama un'auto blu la scena sfuma questo autista carica la valigia nel frattempo nello sfondo c'è ancora la casa impazzita le luci che vanno in termittenza la serranda che si apre si abbassa e la macchina va via contemporaneamente la macchina va via e si avvicina una mano sconosciuta alla maniglia di questo appartamento e appena tocca questa maniglia tutto smette le luci non sono più impazzite l'allarme smette di suonare la serranda è perfettamente al proprio posto la porta si apre eppure questa persona non è l'avvocato di questa multinazionale è un soggetto terzo più persone iniziano a salire le scale di questo appartamento e altro non è che la sorella di Elliot che grazie ai suoi amici hanno violato la centralina della smart house costringendo il proprietario di quella casa senza abbandonare l'appartamento per occuparlo praticamente ecco se questo vi può risultare impossibile al giorno d'oggi vi sbagliate questo perché non so se lo sapete esistono già ce le vogliono già vendere queste tecnologie per le nostre abitazioni e non è difficile pensare che quello che vi ho appena raccontato potrebbe tranquillamente essere l'evoluzione dei ladri d'appartamento cioè queste persone non si alleneranno più a forzare le serrature a tagliare le ringhiere o quant'altro ma faranno il loro scouting il loro allenamento sul come violare sistemi di smart house per costringerci a abbandonare l'appartamento semplicemente a aprire le porte di casa nostra con noi magari dentro è una cosa inimmaginabile se ci pensiamo inimmaginabile come quest'altra notizia riportata da Wall Street Journal e tantissime altre testate giornalistiche americane dove sostanzialmente si documenta il fatto che un contractor esterno quindi un consulente esterno della National Security Agency americana quindi l'NSA i servizi segreti informatici americani il computer di questo consulente è stato violato e sono stati rubati tutti i documenti i segreti dell'Agenzia di sicurezza americana quindi cose molto importanti grazie all'antivirus un paradosso chiunque seduto qui pensa che l'antivirus serve per difenderci da questi attacchi informatici difenderci da questi virus peccato che proprio perché l'antivirus funziona con un soggetto terzo remoto non è impossibile pensare che questo soggetto terzo remoto vada a modificare volutamente quell'installazione di quell'antivirus per permettere a un attaccante di fare ponte da fuori a dentro questo computer passando per l'antivirus o qualsiasi altro software che questa persona abbia installato a bordo proprio perché quel software non è governato solo dall'utente finale ma anche da chi garantisce questo servizio inimmaginabile anche questo inimmaginabile anche questa notizia non so quanti di voi l'hanno già letta grazie a una divulgazione di Wikileaks si è scoperto che sempre la National Security Agency non sono manco loro dei santi ha sviluppato un software in grado di entrare nelle case di tutti gli americani tutti gli europei nelle case che hanno installato un determinato modello di smart tv della Samsung quelle con webcam e microfono integrato un software talmente sviluppato bene che permette di accendere microfono e telecamera anche a tv spenta la scusa è stata quella che l'NSE ha sviluppato questo programma trovando vulnerabilità informatiche su questo smart tv per esigenze di sicurezza nazionale però pensate voi siete comodamente a casa vostra a cenare a parlare con vostro figlio che vi racconta cosa ha fatto il giorno prima a scuola e qualcuno magari Donald Trump vi sta ascoltando le vostre conversazioni per questioni di sicurezza nazionale e voi non ve ne accorgete inimmaginabile ma cosa ancora più grave e qui c'è un fattore umano che incide molto avete mai sentito parlare di WannaCry? WannaCry è stato uno degli attacchi informatici dei malware informatici prodotti che ha fatto più danni in larga scala sostanzialmente a marzo di quest'anno viene individuata una vulnerabilità informatica sui comunissimi sistemi operativi che utilizziamo quotidianamente quindi Windows 10 8 XP 7 e anche quelli lato aziendale quindi quelli server la Microsoft individua e rilascia subito un aggiornamento per mitigare questo attacco informatico quindi una volta scoperto tempo in meno 24 ore la Microsoft rilascia l'aggiornamento questo aggiornamento praticamente è stato ignorato dalla quasi totalità degli amministratori di sistema e degli utenti finali fino a quando siamo arrivati a maggio dello stesso anno che aziende persone ospedali addirittura alcuni pronto soccorsi non riuscivano a ricevere le persone l'emergenza proprio perché non andavano i sistemi informativi in realtà come fabbriche fabbriche della Nissan della Renault non riuscivano più a produrre automobili una determinata fabbrica che produceva auto per Nissan e Renault è stata chiusa a 5 giorni essere chiusi 5 giorni quindi non produrre più automobili per 5 giorni equivale a un danno economico veramente grossissimo tutto perché perché ci siamo parlo dell'uomo si è dimenticato di questa criticità non ha aggiornato i sistemi in alcuni contesti una banalità ma almeno non ha nemmeno valutato la possibilità di farlo se ne ha completamente ignorato la tematica ma è così difficile trovare sistemi vulnerabili cioè un attaccanto o no come fa a individuare sistemi vulnerabili è abbastanza facile in realtà dovete sapere che esiste una piattaforma si chiama Shodan io lo chiamo il Google della sicurezza informatica praticamente mediante ricerche puntuali vi fa vedere cosa è disponibile su internet con quella determinata caratteristica potete chiedere per esempio webcam che non hanno credenziali oppure webcam con credenziali admin-admin o sistemi esposti su internet accedibili senza autenticazione io ho fatto una ricerca molto semplice su Shodan questa è la esattamente come lo potete tra parentesi è gratuito potete usarlo anche voi è gratuito fino a qualche richiesta una centinaia di richieste ho detto fammi vedere questa è la situazione al 17 settembre di quest'anno quanti sistemi sono vulnerabili a WannaCry dopo tutto il casotto che è accaduto bene più di 954.000 sistemi vulnerabili in tutto il mondo al 17 settembre 2017 puro masochismo praticamente cioè c'è stato tutto quello che vi ho appena raccontato e c'è gente che ancora espone sistemi vulnerabili e quindi potenzialmente sono devastabili vanno fatti infrantumi questi sistemi se presi sotto attacco in Italia come siamo messi? bene ma non benissimo questa è una ricerca puntuale sull'Italia ci sono più di 7.000 sistemi ancora vulnerabili e l'ultimo in lista è una nota università italiana questo per farvi capire che quando si parla di sicurezza informatica è molto importante non limitarci nel parlare soltanto di tecnologia il fattore chiave di tutti i concetti di sicurezza informatica è e rimarrà sempre l'uomo per due motivi è l'uomo che sviluppa questi sistemi sia l'hardware che il software ed è l'uomo che li utilizza quindi se abbiamo un buco in questa catena avremo dei problemi gravissimi di sicurezza informatica quindi è inutile investire milioni di euro in tecnologia se il problema è l'utonto cioè l'utente tonto l'utente non sostanzialmente formato però purtroppo quando noi utilizziamo quel maledetto smartphone o tablet è come se spegnessimo il cervello cioè non ci facciamo caso facciamo un uso sconsiderato della tecnologia se avete ancora qualche dubbio a riguardo questa è la prova definitiva esiste un profilo twitter che riposta le fotografie degli utenti sempre su twitter che fotografano volutamente la propria carta di credito fronte e retro perché poverini ancora il secure code mancasse uno sforzo in più da parte di un attaccante poi la cosa bella è che nei commenti c'è sotto scritto grazie per la nuova playstation 4 il problema qual è che fin quando esistono per carità queste sono eccezioni però l'uso non come dire congruo della tecnologia porta a seri problemi di sicurezza informatica e seri problemi di sicurezza informatica non vanno risolti con dell'altra tecnologia dovete sapere che questo signore ha affermato tantissimi anni fa una frase bellissima ci sono solo due cose che sono infinite l'universo e la stupidità umana e per quanto riguarda l'universo non ne sono nemmeno sicuro per quanto concerne la sicurezza informatica purtroppo Albert Einstein ha veramente tanto ragione e allora cosa dobbiamo fare per essere più sicuri noi per essere anche trasmettere sicurezza dobbiamo partire dal basso dobbiamo formare e partire dal basso considerando anche i nostri figli dalle scuole un'educazione volta proprio al contesto di uso congruo della tecnologia perché se usiamo a modo la tecnologia se possediamo la tecnologia quindi siamo certi di quello che stiamo facendo con quel determinato strumento informatico il rischio di compiere corbellerie è sicuramente molto più basso e dobbiamo insegnare soprattutto alle persone che per lavoro trattano informazioni classificate o personali o riservate anche della vita di tutti i giorni a un uso consapevole di quello strumento informatico dove sono contenuti tutte queste informazioni perché soltanto con la consapevolezza dell'utilizzo della tecnologia riusciamo a vivere in un mondo più sicuro grazie grazie